Quando siamo caduti abbiamo perso praticamente tutti, il zaino non c'è più niente, hanno rubato tutti. La mia amica ha perso tutto, ha perso portafoglio, occhiali, di tutto ha perso, c'aveva 200 euro, documenti, carte d'identità, adesso è tutto da rifare, poverina, cosa deve fare? Ci sono anche gli sciacalli quindi oltretutto? Sì, ci sono pure quelli che prendono, trovano due paio di scarpe buoni, prendiamoli, mettiamoli nello zaino, tanto va bene così. A te l'ha portato via? Io sono corsa via, ho lasciato lì lo zaino, ho provato a ricercarlo, anche perché è uno zaino con le borchie, si vede, me l'avranno rubato, magari non l'ho trovato, ma la vedo proprio dura non averlo trovato. E niente, così ci dovevo fare quando succedono queste cose, l'importante è che sto bene, tutto qua. Non è stata una delle serate migliori diciamo.